Grazie Presidente, oggi siamo qui a discutere una bella delibera, una delibera che nasce da un'idea del Municipio Undicesimo. L'ideatore e l'assessore Lucidi, con la collaborazione del Cossiere Talamoni, che hanno fatto proprie alcune richieste dei cittadini del Municipio e hanno dato forma a queste idee in un progetto che è quello che la Commissione e io personalmente hanno voluto tradurre in questa delibera di indirizzo poi ai vari dipartimenti interessati. Cosa prevede questo progetto? Questo progetto prevede che la vecchia area dedicata al Farmers Market di Corviale, che è stata in disuso per anni, venga restituita alla cittadinanza. Mi scusi, se può chiedere un attimo di silenzio Presidente? Non riesco. Un attimo solo Consigliere. Dicevo, un bellissimo progetto che prevede di restituire alla cittadinanza la vecchia area del Farmers Market di Corviale con una diversa finalità, o meglio, con una diversificazione delle finalità applicate. Perché? Perché nella vecchia area in cui veniva ospitato esclusivamente il Farmers Market si prevede di creare un centro servizi. Un centro servizi, cioè il frazionamento di quest'area, prevede l'istituzione di un centro servizi postali, prevede di ospitare all'interno della struttura la farmacia Pharmagap, che oggi è distante alcune centinaia di metri, è piuttosto isolata e sacrificata nella locazione dove è oggi. Prevede un posto di polizia a garanzia della sicurezza dei cittadini, gli stessi cittadini che hanno chiesto al municipio questo presidio. Perché? Sappiamo purtroppo che l'area è particolarmente degradata e sicuramente la chiusura di un presidio commerciale non ha aiutato il territorio. Viceversa, noi pensiamo che aggregando un presidio di sicurezza, un presidio sociale come la farmacia Pharmagap e i centri servizi postali, unitamente a una realtà commerciale come quella dei mercati agricoli, sia una grande opportunità di rilancio per questa area, per questa zona. Quindi veramente ci abbiamo messo il cuore nel dare voce e portare a Roma Capitale questa idea del municipio. E veramente chiediamo alle opposizioni di partecipare alla rinascita di Corviale che con questo atto si realizzerà con la collaborazione di dipartimenti interessati. Grazie.